Rassicurazioni di sostegno concreto e attenzione alle problematiche del comparto agricolo e della pesca arrivano dal governo regionale e dall'assessore all'agricoltura e vicepresidente della regione Luca San Martino che nella mattinata di ieri 20 marzo ha incontrato a Palazzo d'Orlean una delegazione di manifestanti che avevano sfilato a Palermo fino a Piazza Indipendenza. All'incontro erano presenti anche il capo della segreteria particolare del presidente della regione Marcello Caruso e dirigenti dei dipartimenti dell'agricoltura Dario Cartabellotta e della pesca mediterranea Alberto Pulizzi oltre ad alcuni sindaci siciliani che hanno rappresentato le difficoltà dei territori. Oggi una manifestazione pacifica dei comitati spontanei, stamattina ero alla Gulfa, oggi qui in presidenza della regione per dare manforte a quello che è il grido d'allarme degli agricoltori e produttori siciliani. Un tavolo permanente che serve a informarli, a scambiarci le informazioni ma soprattutto ad aggiornarli su quelli che sono i provvedimenti che il governo Schifani ha già messo in campo e che sta mettendo in campo grazie alla collaborazione anche del governo nazionale. Nelle prossime ore stiamo lavorando alla richiesta di emergenza nazionale che presenteremo alla presidenza del Consiglio dei Ministri per dare un aiuto concreto ai tanti che oggi manifestano ma soprattutto ai tanti che oggi non sono in piazza e che vivono con grande sofferenza il cambiamento climatico ma soprattutto la crisi dei mercati. La nostra produzione è a rischio e a rischio la produzione primaria delle materie prime che sono straordinarie anche per l'importanza che rivestono nei mercati nazionali. Il governo della regione è a fianco dei produttori e dei pescatori siciliani perché questo momento di difficoltà si possa superare insieme.